Noi andremo a Cesena per andare a fare risultato pieno, per andare a vincere, avendo anche poco da perdere, nel senso che andremo lì per andarci a divertire, per andarci a godere lo stadio e soprattutto per andare a vincere. Quindi diciamo che se c'è un po' di pressione è una pressione positiva, quella su di noi e su di loro. È una squadra che è costruita per vincere e ancora in classifica non è nei primi due posti. Durante questo percorso che è iniziato cinque anni fa siamo stati abituati in un certo modo, abbiamo lavorato in un certo modo e tutti i campionati che abbiamo affrontato li abbiamo affrontati diciamo sempre in alta classifica. Quindi anche questo per noi in questo momento non è una cosa che ci pesa o che ci dà pressione. Anche perché sappiamo quali sono i nostri obiettivi, sappiamo per cosa lavoriamo. Lavoriamo per vincere le partite che si disputano ogni settimana e l'obiettivo è quello della salvezza. Raggiunto quello possiamo parlare d'altro. Mancano 7-8 punti ancora, abbiamo grande possibilità di farli. Se li facciamo presto possiamo alzare l'asta, se non li facciamo presto non si può fare.